per garantire proprio la dignità del mestiere, questo mestiere straordinario che è fare l'insegnante e poi la riforma che rinunisce tutte, che è quella della riorganizzazione dell'intero sistema didattico con grande attenzione a due punti professoressa, urliamolo al cielo di questa arena di merda, gli Opti Gaming vincono, porca madonna pensionamento degli istituti, delle istituzioni scolastiche e numerosità poi delle classi sugli investimenti abbiamo due ambiti io sono assolutamente pro anche alle religioni ragazzi mamma mia che feels, che feels gli ambienti per la nuova didattica, per una nuova didattica molto più partecipata, molto più laboratoriale e i contenuti della nuova didattica per i primi abbiamo posto 13 miliardi di investimento di cui 900 milioni